oggi ci troviamo a caraglio siamo in via roma 168 e siamo nel nuovo nostro studio la mia casa è un' agenzia diversa è un'agenzia immobiliare ma che fa tutto in un modo diverso diciamo che basiamo tutto sull'innovazione quindi abbiamo un approccio un metodo operativo diverso dalla classica agenzia per noi l'innovazione è quello che ci contraddistingue è quello che ci permette di raggiungere i risultati che gli altri non riescono a raggiungere riteniamo che la tecnologia sia la base del futuro quindi la compravendita l'accompagniamo alla vecchia versione dell'agenzia con tutta la nuova versione che legata tecnologia dove andiamo a creare del materiale che ci permette di vendere meglio e prima quindi per il proprietario arriva un vantaggio immediato e per gli acquirenti ci permette di aiutarli nel capire che quella casa è proprio la casa che fa per l'acquirenti in sé quando incontriamo un cliente prima cosa facciamo capire qual è la diversità del servizio che andiamo ad offrire e quali sono i vantaggi che avrà lui per questo tipo di servizi andiamo a fare una valutazione dell'immobile la valutazione viene anche qui fatta con dei software molto innovativi perché andiamo analizzare tantissime caratteristiche della zona e tantissime caratteristiche del venduto per arrivare a una valutazione vera e di mercato e poi dal momento in cui il cliente capisce il valore aggiunto che può avere affidandosi a noi allora partiamo con il processo di digitalizzazione della casa quindi facciamo un sopralluogo dove andremo a fare tutto un discorso di report fotografico andremo a creare dei video di video emozionali che serviranno all'acquirente a capire che quella è la casa che fa per lui andremo a fare le riprese con i droni e andremo a ricostruire digitalmente l'immobile di conseguenza noi riusciremo a far vedere all'acquirente la casa direttamente dal nostro studio senza andare dal proprietario fermo restando il fatto che per comprare una casa bisogna comunque andarla a vedere però cerchiamo di non fare una via crucis di appuntamenti ma cerchiamo di fare appuntamenti molto mirati l'oculus è questo strumento che ci permette di far visionare gli immobili direttamente dal nostro studio e chi effettua questo percorso dentro la casa la vede come se fosse dentro l'immobile ha un joystick che gli serve per navigare dentro l'immobile e posizionandolo direttamente sul viso gli permette di vedere tutto vedere dal pavimento vedere il soffitto e girare completamente in casa e comunque accompagnato da noi e con la tranquillità di avere tutto il tempo a disposizione cosa che magari durante una visita con un proprietario manca magari il proprietario a fretta o comunque si ha paura di dar fastidio quindi questa possibilità di visionare in santa pace l'immobile gli permette di vederlo in tutte le sue sfazzettature abbiamo anche un sito internet che è www.agenzialamiacasa.it dove pubblichiamo tutto il materiale da casa è possibile consultare gli immobili e visitarli direttamente logicamente non avendo l'oculus non sarà così immersiva la visita però si può visitare la casa come se fosse uno street view quindi girando dentro casa e perfino prendendo tutte le misure abbiamo un software che è un software americano anche questo in italia sono pochi ad utilizzarlo la chiamano la casa delle bambole quindi vedere la casa in modo tridimensionale e poterla visitare all'interno clienti interessati possono contattarci o tramite mail a info chiocciola agenzialamiacasa.it o tramite telefono al 0171619013 o scrivendoci direttamente sul nostro sito internet